Presentiamo subito il nostro ospite, Raffaella Sensoli, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione, grazie per essere venuta qui con noi. Lei è di Rimini, quindi una domanda obbligata perché nel fine settimana, venerdì, comincia Italia 5 Stelle, che è la Kermess Movimento 5 Stelle, al termine della quale tra l'altro verrà indicato il nome del candidato premier, candidato premier che sarà sicuramente Di Maio perché ci sono sette sfidanti che sono poco conosciuti. Sì, esatto, verrà proclamato durante la manifestazione che dura da venerdì pomeriggio fino a domenica sera, ci sarà anche il primo discorso del nostro candidato premier, visto la lista di coloro che ci sono candidati oltre a Luigi, sì, molto probabilmente, con un forse d'obbligo perché comunque si passa da una votazione, sarà lui. Infatti si è parlato un po' di primarie farsa, il Carlino titola le primarie farse dei grillini, Di Maio senza rivali a parte sette sconosciuti. Ma allora, farsa, la possibilità è stata data a tutti, Alessandro Di Battista che era quello diciamo più probabile, ha detto che ha fatto un posto dove comunque spiegherà sempre durante la manifestazione il motivo della sua non candidatura, ognuno è stato libero di scegliere se candidarsi oppure no, quindi non la chiamerei una farsa perché chiunque si poteva candidare, tant'è che ci sono anche insomma dei nomi che rispondono ai requisiti ma che non sono tra i cosiddetti big, quindi noi la possibilità la diamo a tutti poi, sono scelte personali. Ecco, non si è candidato neanche Ficco che è un po' il leader dell'ala cosiddetta degli ortodossi, così vengono definiti, diciamo, quelli che si rifanno un po' a un rigore della prima ora e si aspettava che si candidasse e neanche Di Battista si è candidato, diciamo. Sì, come dicevo, Alessandro Di Battista ha già fatto un posto dove ringrazia tutti quanti per il sostegno e comunque spiegherà sempre durante Italia 5 Stelle le motivazioni, quindi attendiamo di saperle. Roberto Ficco, anche lui, bisognerebbe chiedere direttamente a lui, ovviamente io non posso sapere i motivi personali che hanno spinto queste due figure a non candidarsi, sicuramente hanno fatto la scelta che ritenevano migliore. Si è candidato invece Saviano, una sorta di provocazione, come la vede? Sì, sì, ma la vedo, la vedo appunto come una provocazione. Ultimamente Saviano ha preso un po' di mira il Movimento 5 Stelle, diciamo così, però non è quello il problema. Noi siamo sempre aperti al confronto. Voleva essere una provocazione e in un qualche modo ci è riuscito. Insomma, i media, i giornali, i Tg hanno parlato di lui, però lascia il tempo che trova, sinceramente. Non credo che queste provocazioni possano inficiare poi il lavoro del Movimento 5 Stelle. Ecco, lei ovviamente parteciperà a Italia 5 Stelle? Beh sì, certo, sono a casa, quindi. Ma che momento è? Ma è un momento sostanzialmente di festa. È un momento in cui ci si ritrova, tutti quanti, dalla Val d'Aosta alla Sicilia. È un momento in cui si sta insieme, si parla, si portano i temi cari al Movimento 5 Stelle, si portano i risultati ottenuti, perché poi negli anni chiaramente c'è stata un'evoluzione di questa manifestazione, dove non solo si portano le tematiche che si vogliono affrontare, ma quelle affrontate e quelle su cui si sono ottenuti dei risultati. Quindi è molto importante ed è un momento di confronto. Molti lo chiamano congresso. In realtà non è così, non è un congresso perché non è una manifestazione a porte chiuse, è una manifestazione aperta a tutti i cittadini, dove si sta insieme, si dialoga, si parla, ci saranno degli artisti, ci sarà della musica, quindi anche dei momenti di divertimento e assieme al divertimento comunque si parla e si continua a parlare di contenuti. Verrà Grillo? Penso proprio, sì. Perché da più parti i giornali dicono che vuole un po' sfilarsi. Ma vuole sfilarsi. Beppe è sempre stata e sarà sempre una figura di riferimento, d'altra parte il Movimento 5 Stelle è una sua creatura, insomma lui e Gianroberto Casaleggio hanno creato il Movimento 5 Stelle, forse anche, anzi sicuramente senza aspettarsi, poiché saremmo arrivati a questo punto, lui stesso l'ha detto più volte, che mai si sarebbero immaginati di arrivare fino a questo punto, è stato uno svegliare le coscienze, insomma di questo sicuramente verrà sempre ringraziato. Poi a livello politico naturalmente rimarrà come figura garante rispetto alle regole del Movimento e all'interno delle istituzioni si continuerà a lavorare come si è sempre fatto, insomma, quindi è giusto che Beppe dica sempre la sua, come ha sempre fatto, rimarrà comunque uno di noi. Senta, questo è anche un anno importante perché si ricordava che era il decennale del Vaffanculo Dei che è considerato un po' l'inizio del Movimento 5 Stelle, qui è nato tutto a Bologna e in Emilia Romagna. Sì, 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 l'Emilia Romagna è sempre stata, insomma, uno dei centri nevralgici per il movimento, diciamo che questa spinta iniziale data da una protesta, tant'è che ai primi anni appunto il movimento era considerato un movimento di protesta, l'antipolitica, in realtà noi ci siamo, sì, forse riuniti intorno a un Vaffa perché avevamo ormai una situazione, abbiamo purtroppo ancora una situazione in Italia insostenibile, però poi il movimento è diventato altro, noi ci riteniamo la vera politica, non l'antipolitica, proprio perché la politica è fatta e deve essere fatta dai cittadini e con i cittadini, non sicuramente da una classe politica che poi negli anni è diventata sempre più autoreferenziale. Siete, lei è a primo mandato in regione, che cosa ha trovato, diciamo, in questi, questo è già il terzo anno, no? Questo è già il terzo anno, sì, sicuramente trovi una situazione non facile da affrontare, però ci vuole tanto impegno, tanto studio, tanto sacrificio, ore e ore di lavoro, giorno e notte e chiaramente poi quando si continua a mantenere il contatto col proprio territorio e con i cittadini i risultati volendo si ottengono. Noi abbiamo comunque il merito in questi anni di aver cambiato alcune dinamiche all'interno della politica, non in modo così incisivo purtroppo da poter sradicare quei meccanismi e quei centri di potere che hanno portato questo paese ad una situazione insostenibile, però sicuramente un piccolo granello per iniziare ad arrugginire quell'ingranaggio l'abbiamo messo. Qual è la battaglia di cui va più fiera finora? Ma ne abbiamo fatte tante, allora abbiamo ottenuto intanto tanti risultati sul mio territorio, ad esempio nel riminese, una cosa che porto con orgoglio è il fatto di aver tutelato l'ospedale di Nova Feltro in provincia di Rimini con un emendamento che è stato approvato in aula per evitare che si chiudesse questo ospedale, abbiamo fatto tante battaglie anche per i punti nascita, abbiamo ottenuto un risultato dei risparmi per le ASP che sono le aziende di servizi alla persona riducendo l'IRAP di queste aziende e sicuramente tra le battaglie più importanti di questi ultimi mesi c'è stata quella sull'obbligo vaccinale, purtroppo è stata approvata prima in Regione poi a livello nazionale una legge su cui noi non siamo assolutamente d'accordo che crea divisione, crea una situazione a livello sociale secondo noi molto pericolosa però purtroppo ad oggi è legge, insomma vedremo poi l'evolversi della situazione Ecco a proposito di questo, nella provincia di Bologna c'è il primo bambino escluso sul Corriere di Bologna leggiamo senza vaccino il primo bambino escluso la decisione della dirigente di una materna di San Giorgio di Piano dopo un colloquio la famiglia la querela, quindi abbiamo già i primi casi diciamo Sì, come dicevo purtroppo ormai questo tipo di legge c'è istituire un obbligo i titoli di giornale lo confermano, non fa altro che aumentare la tensione sociale che si è creata tra i genitori che hanno deciso di non vaccinare i propri figli e quelli che invece sono favorevoli non tanto ai vaccini ma a questa pratica vaccinale perché bisogna distinguere, nessuno compreso noi del Movimento 5 Stelle non abbiamo mai detto di essere contrari ai vaccini come qualcuno ha cercato di far credere però siamo contrari a questa pratica vaccinale, noi siamo contrari all'obbligo e alla costrizione noi abbiamo sempre detto che i genitori che hanno dei dubbi riguardo la pratica vaccinale vanno convinti con delle opere di informazione e di dialogo a partire dai pediatri, dai medici di base, dalle ASL non semplicemente lasciando un volantino dicendo vaccina tuo figlio che gli fa bene perché così non si vanno a dissipare i dubbi costringendo anzi coloro che avevano qualche timore molto probabilmente assumeranno un atteggiamento di difesa e ancora di più non vaccinaranno i propri figli non è il risultato ovviamente che si vuole ottenere, che vogliamo ottenere la Regione Veneto aveva adottato una strategia diversa quella appunto dell'accompagnamento alla vaccinazione e non dell'obbligo ma del convincimento e in dieci anni hanno pubblicato dei risultati dove avevano dimostrato che questa strategia funzionava purtroppo questi governi non hanno voluto ascoltare questo atteggiamento Cioè quindi praticamente voi cosa sostenete? Che il bambino può non vaccinarsi? Sì, allora noi abbiamo anche depositato i nostri parlamentari un progetto di legge in Senato, prima firma Paola Taverna è chiaro che l'obbligo ci deve essere nel momento in cui c'è una reale emergenza un caso di epidemia conclamata non come è stato fatto da questo governo dove si è agito con un decreto cioè con una misura d'urgenza quando una situazione di urgenza non c'era quindi non solo si è voluta attuare una politica d'obbligo e di costrizione oltretutto creando scontri tra gruppi diversi di genitori e creando quindi una tensione sociale che è aumentata su un argomento così delicato perché bisogna partire dal presupposto che qualunque genitore parte da voler tutelare la salute del proprio figlio sia che sia favorevole all'obbligo vaccinale sia che invece decida di non vaccinare il proprio figlio coloro che hanno deciso di non vaccinare i propri figli eventualmente vanno convinti della buona pratica della vaccinazione che non significa dover obbligare a 10 vaccini che all'inizio erano 12 poi sono diventati 10 con una contrattazione parlamentare neanche parlassimo di mele o pere al mercato e con un decreto legge che è stato fatto in fretta e furia prima delle ferie estive e che ha creato solamente proteste e contestazioni e ad oggi si è arrivati anche a queste situazioni di esclusione perché ricordiamoci sempre che chi ci rimette in ogni caso è il bambino che viene emarginato Ascolti però i medici sostengono che vaccinarsi è fondamentale Ma sì certo, infatti io non sto parlando del fatto che i vaccini facciano bene e facciano male io sto parlando proprio della questione dell'obbligo e del fatto che vengano esclusi dei bambini dall'asilo nido, dalla scuola materna perché non vaccinati ricordiamoci che ci sono dei genitori che possono decidere, potrebbero decidere o di creare purtroppo delle situazioni abusive oppure di non mandare il proprio figlio al nido e alla materna questo crea delle situazioni come dicevo di emarginazione dei bambini non è giusto perché anche la cosiddetta buona scuola che questo governo ha voluto fare comunque comprende nel percorso formativo già la scuola materna e quindi se veramente la scuola materna è un momento di formazione del bambino escluderlo con una legge del genere è assolutamente discriminatorio invece la politica deve essere inclusiva non esclusiva Senta lei di Rimini a Rimini c'era l'aeroporto che era quasi in stato pre-fallimentare adesso com'è la situazione? Allora adesso la situazione rimane comunque critica noi avevamo chiesto un'audizione della società che gestisce oggi l'aeroporto avevamo chiesto un'audizione in regione proprio per sapere qual è la situazione dell'aeroporto di Rimini perché comunque il piano che era stato concordato con Enac quando è stato assegnato l'aeroporto di Rimini a questa società comunque ad oggi non è rispettato perché siamo a circa un terzo dei risultati che invece avevano promesso di raggiungere in questi anni oltretutto risultati ottenuti in parte con del co-marketing dato dalla regione quindi non si può nemmeno dire che la capacità imprenditoriale di chi gestisce l'aeroporto ad oggi sia riconoscibile al 100% dato che comunque i tour operator che decidono di far atterrare dei voli a Rimini hanno diciamo così un contributo dalla regione per quanto riguarda la promozione del territorio non sono venuti con sinceramente delle motivazioni piuttosto opinabili vabbè hanno detto che per quel giorno avevano già degli impegni ma che comunque se vengono verranno con Enac vogliono sapere prima le domande non crediamo che questo sia un atteggiamento giusto perché gestisce uno scalo aeroportuale di piccole dimensioni ma considerato comunque strategico a livello nazionale perché comunque Rimini è un punto importante della nostra regione e dell'economia regionale perché chiaramente poi sul turismo balneare si basa una buona fetta del PIL regionale ecco un'ultima cosa voi a Grellini avete sollevato anche il caso APT l'azienda turistica che era scoppiato la scorsa istante mi sembrano parecchie polemiche che coinvolgevano anche giornalisti con pernottamenti in albergo poi dovevate andare avanti poi alla fine è finito tutto nel nulla ma allora noi quello che potevamo fare l'abbiamo fatto a livello politico naturalmente poi sono state aperte delle inchieste ed è compito poi della magistratura accertare le responsabilità è ovvio che noi comunque continueremo a monitorare l'utilizzo dei soldi pubblici perché il problema fondamentale è che sono stati usati dei soldi che dovevano servire per promuovere il territorio per pagare vacante a giornalisti ma chiariamoci non me la voglio prendere con il giornalista però a dirigenti RAI oppure per fare dei servizi che vanno in onda al telegiornale quando il telegiornale deve essere un organo di informazione non di promozione l'abbiamo sempre detto possiamo comprendere una strategia del genere nel momento in cui si parla di riviste o trasmissioni specializzate nel settore turistico e quindi tu promuovi il tuo territorio non di certo per pagare la vacanza al dirigente RAI accompagnato da moglie e figlio insomma sembra più un volersi così tenere buona la stampa e i media in modo tale che poi se questa giunta questo governo dovesse fare qualche cosa di di sbagliato magari così non infieriranno a voi quindi avete chiesto che anche APT riveda un po' tutta la sua politica ma sì noi addirittura abbiamo chiesto anche le dimissioni della presidente di APT perché oltretutto la sanzione data a Grassi all'ex caporedattore secondo noi non è adeguata l'hanno sospeso per qualche mese gli hanno fatto una multa ad oggi è stato mandato a fare comunque il lavoro di redattore al centro ricerca marine di Cesenatico stesso stipendio stesso incarico stesso contratto quando in un centro ricerca secondo noi più che un'attività di promozione serve più un'attività di divulgazione scientifica quindi probabilmente l'hanno diciamo spostato lì ma non ci sembra di certo la mi viene il termine punizione ma insomma adesso non è che stiamo qua con lo scudiscio a punire però sicuramente questa persona ha delle responsabilità che ha anche ammesso perché sono state pubblicate l'anno scorso anche delle ammissioni di Grassi sui giornali sul metodo che usava per così per pagare queste cene o queste serate o questi soggiorni ai vari giornalisti ok l'ultima battuta adesso saranno le elezioni politiche nazionali prossimo anno voi siete pronti ad andare al governo o è meglio non andare? no noi siamo siamo pronti stiamo lavorando da mesi vogliamo andare al al governo assolutamente il programma ormai si può dire praticamente completato è stato fatto un percorso con gli eletti sul territorio con i cittadini è stato fatto un lavoro di raccolta di tutto ciò che è stato fatto in tutta Italia è stato messo in votazione perché chiaramente poi passa tutto dalla votazione degli iscritti quindi un metodo di condivisione fino alla fine e il nostro candidato premier sarà colui che dovrà portare il programma del Movimento 5 Stelle grazie grazie a Raffaella Senso di Capogruppo Movimento 5 Stelle grazie a voi arrivederci grazie a voi telespettatori buona giornata a tutti